E abbiamo fregato tutti, non c'è nessuno. Tutto sotto controllo, ora possiamo partire. Oh, collega, io ho fame. E per piacere non incominciare che qua si mangia assai e poi sfrasci. No, no, io sono magrissimo, voglio. Non è che mo... Tu stai male, tu stai enorme. Forse non ci siamo capiti, io nella famiglia mia sono il più magro. Il mio fratello, che è quattro volte più grosso di me. Il tuo fratello è quattro volte più grosso di te. Tu pensi, l'altro giorno l'abbiamo ricoverato in ospedale per portarlo all'ambulanza, ha fatto due viaggi e dico due.